bentornati amici cattolici di fare un video su questa serie me l'avete chiesto in moltissimi praticamente non c'è un video pubblicato negli ultimi tre anni che non abbia un commento tipo questo che sia una delle serie più amate e geniali mai apparse in tv è quasi ridondante dirlo ma che ancora oggi i primi episodi scritti oramai 65 anni fa siano efficaci e spiazzanti come quanto sono stati trasmessi la prima volta era tutt'altro che scontato se volete spingervi con me dove i confini della realtà si fanno più labili e la zona del crepuscolo più forte non dovete far altro che aspettare come sempre che finisca la sigla siamo nel 1949 e gli stati uniti usciti vittoriosi dalla seconda guerra mondiale hanno un nuovo terribile nemico il comunismo se la società americana sta attraversando una radicale e dolorosa trasformazione dove i teenagers per la prima volta nella storia diventano un soggetto politico e anche culturale che si contrappone in maniera diretta agli adulti in russia apparentemente tutto invece sembra compatto e adamantino e questo crea una psicosi tra la borghesia americana convinta che al tracollo dei valori sani e americani si vedrà l'imposizione di una nuova ideologia che non ha nessun dubbio né conflitto al suo interno e come si risponde a una cosa come questa ma con una bella sana e salvifica caccia alle streghe a truman nel 1949 vara la famosa dottrina truman che sostanzialmente proprio all'osso significava o con loro o con noi nessun compromesso nessuna sfumatura l'impero del male i buoni ed è così che una commissione nata durante la seconda guerra mondiale per monitorare la presenza nazista negli stati uniti chiamata commissioni sulle attività anti americane in quel periodo inizia a guardare negli armadi di ogni cittadino americano che sia vagamente sospetto in cerca di scheletri con in mano una bella falce e un martello ovviamente è un attimo che questa ondata di liquame intellettuale arrivi a hollywood dove decine di sceneggiatori e attori primo fra tutti charlie cebrin avevano da sempre rivendicato idee socialiste ne nasce uno dei più grossi repulisti ideologici che la storia americana abbia mai conosciuto il risultato fu che sette sceneggiatori due registi e un produttori passati alla storia come i dieci di hollywood che si erano rifiutati di rispondere alla fatidica domanda siete mai stati membri del partito comunista furono arrestati mentre centinaia di altri aspisti finirono in una lista nera e di fatto smisero di lavorare per anni ci sono decine di film che parlano del maccartismo e di quanto fu devastante per la cultura americana io ve ne consiglio uno che con le serie tv ha un certo legame l'ultima parola la vera storia di dalton trumbo film spettacolare con un brian cruston immenso nella parte di dalton trumbo non vi dico altro il resto scopritevelo da voi bene in questo clima non decisamente idilliaco che colpì anche la tv lucille ball rischiò seriamente di finire al gabbio lavorava uno sceneggiatore geniale di nome rod serling che nonostante avesse a cuore i temi sociali e la lotta alle discriminazioni razziali non era stato colpito dal maglio della commissione questo però non gli migliorava il lavoro perché ogni sceneggiatura che proponeva veniva stravolta e purata e ripulita da ogni tema controverso e questo per evitare che gli sponsor e un'opinione pubblica non proprio lucidissima iniziassero a starnazzare proprio di comunismo il fatto più emblematico che poi fece scattare la molla a rod serling fu quando ispirato dal brutale omicidio di emmett till serling scrisse un film per la tv intitolato noon of doomsday la prima stesura ovviamente parlava di un processo dei bianchi che avevano ucciso un ragazzo di colore e che nonostante le prove schiaccianti venivano assolti in quanto bianchi la rete ovviamente chiese che la questione razziale e i riferimenti un po troppo palesi a un cronaca reale fossero eliminati e il serling allora modificò la sceneggiatura la vittima quindi divenne un vecchio ebreo gestore di un banco di pegni e l'assassino un bianco giovane e infelice che ovviamente trovava nell'ebreo il suo capro espiatorio ma anche questa volta la nuova sceneggiatura non piacque la rete che dopo un'attenta verifica durata ben due giorni nero su bianco specificò tutti i punti che dovevano essere modificati e i due più importanti erano primo la vittima non doveva avere nessuna connotazione razziale e doveva essere un generico straniero secondo l'assassino non doveva essere un bianco frustrato da una vita da fallito ma un generico bravo ragazzo bianco che aveva avuto purtroppo una giornata storta serling fece tutte le modifiche richieste ma promise a se stesso che mai e poi mai si sarebbe di nuovo trovato in una situazione simile e quindi si mise a pensare come eludere l'ostacolo così gli viene un'intuizione se l'ambientazione fosse stata fantascientifica con molta probabilità la dirigenza delle tv non si sarebbe preoccupata del messaggio tanto ai loro occhi era tutta fantasia e così scrive una sceneggiatura dei time element il raccolto parla di un uomo che ogni notte sogna di tornare indietro nel tempo al giorno dell'attacco di per arbor e che come ogni sera cerchi disperatamente di avvertire il resto dei suoi commilitoni proprio dell'imminente attacco ovviamente fallendo quindi ne parla con il suo psicologo che liquida la cosa come un semplice sogno visto che ovviamente è impossibile viaggiare nel tempo ma mentre l'uomo è sul divano si addormenta e sogna per l'ennesima volta di tornare a pochi minuti prima dell'attacco solo che questa volta una raffica sparata da un aereo lo uccide la scena torna nello studio dove lo psicologo è solo e il lettino è vuoto il medico come se avesse finito da poco una sessione con un cliente scende in strada e si reca a un bar dove ci sono varie foto di soldati appese al muro e c'è anche la foto del protagonista del nostro racconto lo psicologo distrattamente chiede chi siano gli uomini della foto e il barista gli risponde che sono i suoi ex commilitoni morti durante l'attacco di per arbor la cbs acquista immediatamente la sceneggiatura per poi però dimenticarla e uno dei suoi tanti archivi a ritrovarla è birth granny che all'epoca produceva westing house desilieu playhouse una serie antologica prodotta dalla desilieu e che era in cerca di materiale per imbastire le nuove puntate quindi scartavellando l'enorme archivio dei progetti in standby della rete trova proprio questa sceneggiatura e ne è folgorato e decide subito di produrla questa anche se non in maniera ortodossa si può definire la prima puntata in assoluto di ai confini della realtà la puntata è un grandissimo successo e le 6.000 lettere arrivati in redazione fanno capire alla cbs che una serie fatta con quello stile ha enormi potenzialità rad serling quindi scrive un secondo pilot intitolato in italiano dove sono tutti che venne approvato dalla rete e così nel 1959 sugli schermi americani debutta dei twilight zone a se siete curiosi di sapere che fine ha fatto dei time element sappiate che per anni se ne sono perse le tracce fino al 1996 quando tv land lo ritrovò e lo ritrasmise lo trovate anche in rete ma solo in lingua inglese ma torniamo a noi una volta approvato il progetto la prima cosa che rod serling fa è fondare una sua casa di produzione così da non avere interferenze sulle sue sceneggiature poi recluta gli sceneggiatori più geniali che conosce forma così una specie di dream team fatto di gente del calibro di charles beemmott ray brarbury hart hammer e george clayton johnson la serie sin dal debutto fu accolta da recensioni entusiastiche i critici si sperticarono in lodi definendola già allora una delle serie migliori mai apparsa in tv sia per regia che per scrittura il pubblico fu però tiepidino la cbs che aveva investito molti soldi nel progetto puntava ad arrivare nella top 20 delle serie più viste ma non fu così anzi il terzo episodio della serie ebbe un vero e proprio tracollo in fatto di ascolti che ha seriamente rischiato di far chiudere il progetto fortunatamente dopo una breve pausa gli episodi successivi hanno iniziato a ingranare e la serie ha raggiunto un numero di ascolti abbastanza alti da convincere gli sponsor a continuare a metterci i soldini l'iconico incipit che non sarò qui a regitarvi che non meritate una simile punizione era stato inciso nella prima puntata dall'attore richard egan che con la sua voce profonda e bellissima fece un grandissimo lavoro solo che a causa di una serie di problemi contrattuali dovette rinunciare all'incarico rold serling infuriato per la cosa allora dichiarò che se non poteva essere egan a recitare l'incipit allora non doveva essere nessuno il regista della prima puntata allora scazzato gli mise il microfono davanti e gli disse allora fallo tu è così che rold serling suo malgrado si trovò coinvolto nella recitazione del suo stesso telefilm la cosa ovviamente all'inizio lo imbarazzava enormemente così tanto che per tutta la prima stagione il suo bel faccione non compare mai ed è solo una voce narrante per la prima stagione serling scrisse quasi tutti gli episodi che unito all'impegno di essere la voce narrante gli impedì di occuparsi di qualsiasi altro progetto eppure nonostante l'incredibile lavoro e la qualità altissima e i premi vinti nella prima stagione il telefilm si portò a casa persino un premio hugo e un emio ovviamente la serie continuava ad arrancare negli ascolti l'anno successivo a capo della cbs arrivò jim obry che non amava particolarmente la serie e che la riteneva troppo costosa per uno spettacolo di mezz'ora che non faceva poi tutti sti ascolti e quindi fu particolarmente severo nella gestione del budget soprattutto per la produzione dei nuovi episodi tanto da imporre l'abbandono della pellicola in favore del nastro magnetico c'è qui da aprire una piccola parentesi nel 1960 registrare sul nastro magnetico significava non poter fare alcun montaggio in post produzione si doveva girare tutto in presa diretta e il montaggio doveva essere fatto in tempo reale dal regista mentre veniva girato tutto come se fosse una trasmissione televisiva fu un massacro non si poteva girare in esterni e questo creò non pochi problemi agli sceneggiatori nel trovare trame in qualità e il girato era ovviamente di qualità molto molto bassa rispetto alla pellicola e il ritmo della serie per ovvi motivi andò completamente a ramengo nel frattempo però il budget dell'intero anno dopo cinque settimane era già praticamente finito con di alla mano videro che il risparmio che si aveva per girare sul nastro era di soli 6.000 dollari a puntata praticamente nulla quindi per portare a casa il tutto ed evitare che jim obri ponesse fine al progetto serling a denti stretti dovette produrre sette episodi in meno nonostante tutti i problemi i premi però continuarono a fioccare ben 5 m il secondo anno e un secondo premio google persino newton minow nel suo leggendario discorso al congresso sulla qualità della tv americana che definì una terra desolata quando la televisione va bene niente nel teatro nelle riviste o nei giornali niente è migliore ma quando la televisione va male niente è peggio invito ciascuno di voi a sedersi davanti alla televisione quando va in onda la propria emittente e a restare lì per un giorno senza un libro senza una rivista e senza un giornale senza nulla nulla che ti distragga tieni gli occhi incollati su quel set finché la stazione non chiude posso assicurarti che quello che osserverai è una vasta terra desolata come unico esempio di alta cultura citava proprio ai confini della realtà che lui riteneva una serie drammatica e commovente e questo probabilmente salvò la serie che venne confermata un'altra volta al quarto anno di sceneggiature serling però era arrivato al limite nei tre anni precedenti aveva scritto ben 48 sceneggiature e le idee buone iniziavano a mancare nonostante tutto quell'anno serling sfornò quattro degli episodi più famosi di sempre la vita è bella to serve man little girl lost e cinque personaggi in cerca di una vita d'uscita e per la terza volta vinse un ugo le cose però non andavano per nulla bene visti i bassi ascolti la cbs non riuscì a trovare uno sponsor che contribuisse alle spese di produzione e la serie venne chiusa e sostituita con una sitcom fair exchange a questo punto serling sconsolato abbandonò il mondo della tv e accettò un posto di insegnante all'antinoc college tutto sembrava apparentemente finito eppure come sapete meglio di me che né ai confini della realtà il finale non è mai quello che ci si aspetta fair exchange nel mezzo della sua seconda dissestrosa stagione viene chiusa e come sostituto di primavera la cbs pensa proprio di rimettere nuovamente ai confini della realtà ma con episodi di onora serling accetta ma controvoglia il formato da un'ora a suo dire è troppo lungo e diluisce le storie a tal punto da renderle noiose nel frattempo il dream team dei suoi collaboratori iniziò a perdere pezzi bimolt si ammalò e il suo contributo in quell'anno fu praticamente inesistente l'ultima stagione fu un vero e proprio calvario per serling in totale fino a quel punto era scritto per la serie ben 92 episodi di sé stavo scrivendo così tanto che sentivo di aver iniziato a perdere la mia prospettiva su ciò che era buono e ciò che era cattivo l'unica consolazione quell'anno fu che lo spettacolo era tornato al formato da mezz'ora ormai l'apporto di serling e dei suoi storici collaboratori era ridotto al minimo e la qualità della serie ovviamente ne risentì nonostante tutto incubo a 20.000 piedi episodio con protagonista william shatner è considerato uno dei migliori episodi mai scritti per la serie a fine gennaio del 1964 la cbs conti alla mano decide che la serie è troppo costosa e che fa pochi ascolti la abc interessata al progetto contattò serling e chiese di acquistarne i diritti con la pretesa però che il tutto fosse declinato in atmosfere più horror schifato dalla proposta non volendo trasformare la sua serie antologica in un nuovo zio tibia rifiutò vendetti diritti alla cbs e smise di fare televisione almeno fino al 1970 la serie nel corso degli anni ha avuto diversi reboot quello con più fortuna è quello del 1985 ed è quello che io ho beccato per primo in tv nel 2003 la cbs ci riprova ma anche questa volta l'esperimento non dura che una stagione l'ultima incarnazione anche questa non molto fortunata è del 2019 bene credo di aver detto tutto quello che c'era da dire e quindi passiamo se volete a qualche curiosità rod serling durante un periodo piuttosto disperato in cerca di idee chiese agli spettatori di mandare sceneggiature originali e arrivarono 14.000 di cui 500 leggibili e alla fine nessuna delle 500 fu prodotta nella prima stesura del monologo iniziale serling aveva scritto sesta dimensione fu william self dirigente della cbs a fargli notare che conosciute dalla scienza fino a quel momento di dimensioni c'erano solo 4 e che quindi la sua al massimo poteva essere la quinta e quindi serling dovete correggere il monologo serling era convinto che twilight zone fosse una parola che aveva inventato lui e ne era addirittura particolarmente orgoglioso poi però scoprì che era una parola ampiamente usata da parecchio tempo dai piloti dell'aviazione che chiamavano in questo modo il punto in cui volando si passa dalla notte al giorno quasi tutti gli uomini della prima stagione introdotti nella narrazione erano descritti come uomini bianchi 36 anni razzling ha ammesso che molti degli episodi incluso alcuni dei suoi avrebbero potuto essere migliori dicendo che un terzo degli episodi sono dannatamente buoni un altro terzo è passabile e un altro terzo fa veramente schifo bene anche per questa volta è tutto se il video vi è piaciuto vi invito iscrivervi al canale a cliccare sulla campanellina in modo da non perdervi i prossimi e come sempre se volete che parli della vostra serie preferita scrivetelo pure nei commenti